Buongiorno, andate sei defilato pure tu? Il più alto e il più basso sono stati defilati. Vi metto un attimo qua a mezzo perché devo camminare abbassato. Ok, un po' più avanti, a posto. Buongiorno, vai Antonio, vai. Devo portarlo sotto il braccio. Arrivo, arrivo. Non c'è arrivo con la spalla. Arrivo. Porto niente.